Siete? Siamo fantastici! Questo comportamento è la difficoltà del momento e non è una rima costruita come avrebbe fatto il sostituto. Viva tutti! C'è qualcosa che è stato assolutamente improvvisato perché è la verità che erano usciti per bere un caffè. La città e la piazza si sono viste con questo assolutamente di assoluta civiltà ed impareggiabile amore per il nostro carnevale grazie anche alla compostezza e alla serietà delle forze dell'ordine che hanno capito e che ringraziamo. Viva le forze dell'ordine! Viva le forze dell'ordine! La piazza che non è quella del sindaco che c'è stata e ci metto la faccia ma c'è quella del ministero della salute unitamente alla regione Piemonte perché purtroppo non è una situazione facile. Ragazzi, vi parlo anche ad Aranciere. quando si chiudono le scuole, si chiudono le chiese, con la morte nel cuore vi dico che non possiamo pensare di un scuole di Aranciere. ma abbiamo dimostrato quanto vale per noi il carnevale, quanto siamo seri e bravi e quanto continueremo a farlo perché il nostro carnevale continuerà e secondo me qualcuno di noi ci incontreremo anche con noi. Facciamolo con sostanza! A domani! 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 Bravo, vince! Mi sembra di sì! Vblo, vince- prison Vivo! 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 Silenzio!